Emilio Vitti, una gara nella quale vi siete tirati il collo e abbiamo visto Uber, è uscito bene dai 200 metri, c'è il ramarico o sei felice, sei contento? Contento sì, ma il ramarico per un secondo posto c'è sempre, soprattutto in una gara del genere. Diciamo che ripensando al finale potevo un po' magari giocarmela meglio, però vedendo come ha rilanciato Uber dopo l'ultima curva non so se c'era molto da fare. Comunque ho rischiato il tutto per tutto, è una gara molto tirata, sempre davanti, motivazione c'era e credo di aver fatto comunque una bella gara. Speriamo di continuare su questa strada. Questo è un bel arrivo spettacolare, anche difficile e pericoloso l'abbiamo visto nella gara delle allieve. Per l'anno prossimo ti sei fatto già un'idea, hai un po' respirato l'aria? L'anno prossimo sarà il primo anno e il percorso sinceramente non lo so bene quale sarà. Spero, poi ci sono più di 400 partenti quest'anno per esempio, io spero di fare una bella gara, ma soprattutto dagli allieve non fissarmi su un obiettivo, ma cercare di fare una bella stagione. Comunque è difficile dall'allieve al primo anno, si sa, e quel che viene dall'allieve al primo anno è guadagnato. Grazie a tutti.